Ci attesa Roseto per il primo consiglio comunale dell'era Mario Nunez, il sindaco ha comunicato che la Sise Civica si riunirà il prossimo 3 novembre alle 17 e la novità è la location scelta dal primo cittadino, non la consueta sala consigliare, bensì il Palamagetti per poter accogliere tutti i rosetani che vorranno assistere a questo primo appuntamento istituzionale a cui sono state invitate le più alte cariche politiche e religiose del territorio. Lo stesso sindaco spiega il perché della scelta del Palamagetti. Per poter dare ufficialità, pubblicità e ampia partecipazione c'è bisogno di uno spazio consono anche rispetto alle disposizioni anti-covid, la sala consigliare bellissima non sarebbe stata sufficiente ad accogliere coloro che vorranno partecipare a questo momento importantissimo istituzionale che crediamo debba essere il punto di partenza per rimettere al centro la dignità di un consiglio che dovrà lavorare al meglio per i prossimi 5 anni. Lei ha sempre parlato di trasparenza, più trasparente di così insomma? Ma in realtà più che trasparenza è una continuità, abbiamo messo la partecipazione al centro del nostro programma nei primi punti delle 58 pagine e quindi vogliamo viverla dal primo giorno. Abbiamo invitato il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, le cariche religiose, le cariche istituzionali, tutti i sindaci, tutte le autorità anche diciamo delle forze dell'ordine. Sarà importante dare centralità a Roseto, merita di essere trattata come è, cioè la prima città della costa, diciamo Terraman, il secondo comune della provincia. La città di Roseto degli Abruzzi merita rispetto e dobbiamo conquistarcelo anche con gli atti formali. Intanto ci sarà la nomina del Presidente del Consiglio, voi avete già indicato in Gabriella Recchiuti e lei stesso ha chiesto all'opposizione l'unanimità nel voto. È una prassi quella dell'unanimità, ovviamente anche in questo caso si chiede perché è un aspetto importante. Credo che nella figura dell'Avvocato Gabriella Recchiuti risiedano tutte le caratteristiche fondamentali che debba avere un Presidente del Consiglio, cioè quella della preparazione, dell'apertura, del dialogo ma anche della capacità di mettere insieme quello che sarà un organo importantissimo. Lei in campagna elettorale aveva detto che sarebbe stato sempre presente in Comune, è il primo ad arrivare, insomma fare il sindaco è un lavoro ormai. Assolutamente, noi dalla mattina alla sera siamo qui nel Palazzo di Città ma anche in giro per la città perché non saremo sempre chiusi all'interno di questa bellissima sede consigliare, sede comunale. Sarà importante vivere la città in tutte le frazioni, in questi primi giorni ovviamente la presenza qui in Comune è necessaria per far partire la macchina in maniera consona.